ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video guardate che ben di dio ho qui davanti le focacce prese direttamente da recco non vedo l'ora di assaggiarle pensate che visto che siamo stati in un ristorante prima di comprare queste non le abbiamo assaggiate sul posto quindi questa sarà la mia prima reaction ufficiale alla focaccia con cipolle formaggio e bianca apriamo una piccola parentesi quella al formaggio già l'ho assaggiata ben due volte una con marta e fabio una a ristorante in cui siamo stati a recco e visto che in frigo avevo anche del pesto comprato a genova insieme alle trofie ma quello lo vedrete in un altro mukbang ho pensato perché non tagliare la focaccia semplice a metà in modo poi da andarla a farcire con il pesto e assaggiarla anche in quest'altra variante scusate se è una cosa che non si deve fare però pensavo potesse essere interessante partirò da quella semplice perché quella col formaggio mi piace tantissimo quella alle cipolle penso che mi farà sognare visto il mio amore per le cipolle quella bianca l'assaggerò sia semplice così come l'ho comprata sia appunto con il pesto per quanto riguarda il pesto vi dirò cosa ne penso nel mukbang che vedrete con la pasta al pesto giustamente non so se farvi due mukbang quindi sia con le trofie comprate locali sia con le linguine classiche insomma la pasta quella confezionata la voglio fare in entrambi i modi perché ieri tornati ci siamo fatti ovviamente le trofie al pesto nonostante l'avessimo mangiata anche a pranzo vabbè sapete che io ho un'ossessione per il pesto e voglio andare alla ricerca del pesto perfetto quindi non essendo rimasta totalmente soddisfatta del pesto assaggiato al ristorante ho voluto assaggiare subito quello comprato nel negozio di Recco il problema qual è stato? Che secondo me le trofie hanno un sapore forse troppo coprente non ve lo so dire con certezza ieri eravamo stanchi abbiamo fatto tutto un viaggio perciò non vi so dire se effettivamente ho sbagliato qualcosa io lo rifaremo e appunto voglio portarvi entrambe le versioni quindi farò magari una porzione di trofie e una porzione di pasta normale così da farvi la comparazione e dirvi la mia a 360 gradi dopo questo mukbang preparatevi a vedere i tre giorni che abbiamo trascorso su ad Alessandria siamo stati ad Alessandria e nel primo vlog troverete l'home tour il secondo giorno siamo stati al concerto di Michael Bublé e anche lì vi racconterò la giornata e nel terzo giorno invece torniamo a casa passando per Genova e per Recco spero che questi video vi piacciano io mi metto intanto i guanti perché mangiarli con forchetta e coltello mi sembra un po' un eresia però ho visto che sono belle unte vedete questo guanto l'ho usato per tagliare la prima focaccia e si è completamente sporcato d'olio perciò visto che qui ho tutta la mia tecnologia e la mia postazione non vorrei fare il caos partiamo subito con la focaccia semplice guardate che roba anche questa l'ho già tagliata perché avendo messo 3 kg di pesto nel vasetto magari vado a farcire anche lei molto mollicosa devo dire unta il giusto mi piace andiamo a provarla con dentro il pesto perché ovviamente chi siamo noi per non andare a fare queste porcellinate aspettate qui ecco bene dove manca ok il bello è che io prima ho detto che non voglio sporcare e poi vi avvicino la focaccia con il pesto quindi aspettate che non vedo nulla di dove devo spalmare non vorrei far finire tutto il pesto sul microfono però ecco qui ne andrei a mettere anche un altro po' abbondiamo per favore non siamo qui a farci parlare dietro e soprattutto non facciamo i genovesi solita battuta che si fa no? scusate non si lecca mai però andava fatto focaccia con il pesto posso dire tutt'altra storia? vabbè allora vorrei mettere le mani avanti e dirvi che da una parte se queste focacce non rendono proprio al 1000% è ovviamente perché le abbiamo prese ieri verso le 5 di pomeriggio perciò hanno affrontato un viaggio sono state tutta la notte incartate ed ora sono andata a scaldarle seguendo i suggerimenti della ragazza che ce le ha vendute quindi ovviamente mangiarle appena fatte è tutta un'altra cosa mmm beh aspettate che dobbiamo fare un momento degno di nota andiamo ecco questa mi sembra la giusta quantità di pesto da mettere sulla focaccia che bontà ragazzi spaziale di vino divino allora visto che non so quanta fame ho perché vengo da tre giorni in cui abbiamo mangiato davvero tanto passerei con l'assaggiare tutte e tre le focacce prima e poi eventualmente se vedo che ho ancora spazio facciamo il bis per quanto sia tutto eccelso ovviamente il pesto ha un sapore abbastanza forte così come la focaccia è bella unta questa al formaggio questa alle cipolle insomma questa qui è la focaccia al formaggio con una puntina di pesto caduta mentre stavo facendo i miei intrui il formaggio dentro dovrebbe essere sciolto perché questa va servita a bella calda quando l'ho scaldata il formaggio effettivamente si era sciolto adesso ovviamente si è rappreso un'altra volta posso dire con certezza che questa al formaggio comprata nel panificio rivello arrecco è ufficialmente la mia preferita tra le tre assaggiate in questa vacanza eccezionale in ordine metto questa quella mangiata con Marta e Fabio che vedrete nel secondo vlog che uscirà e poi quella nel ristorante che vedrete nel terzo vlog questa al formaggio mi crea dipendenza guardate quant'è sottile perché metto al terzo posto quella assaggiata nel ristorante che vedrete perché mentre queste qui hanno una sfoglia super sottile e morbida in quella focacceria ce l'hanno portata dura e croccante come se fosse una focaccia bianca una pizza da pizzeria quindi l'impasto mi sembrava totalmente diverso non così morbido piacevole mangiata anche nell'altra versione però a mio gusto personale questa qui è veramente più gustosa al palato ti diverte di più comunque sono stati tre giorni stupendi ci tenevo a dirvelo le piccole sono state sempre in giro con noi tranne due sere quella del concerto ovviamente e un'altra in cui siamo stati in un ristorante anche con degli amici di Marta e Fabio siamo stati benissimo mi ha dispiaciuto tantissimo andarmene come siamo stati divinamente con Sara e Luca quando siamo saliti su Atarvisio sono felicissima quando riusciamo a ritagliarci dei momenti per stare con delle persone belle e soprattutto mi fanno personalmente rivivere un po' quella spensieratezza che avevo prima del covid purtroppo sono rimasta un po' traumatizzata dall'esperienza passata perciò non riesco a lasciarmi totalmente andare ma piano piano ci sto riuscendo anche grazie a loro quindi grazie ragazzi questa invece è la focaccia con le cipolle ve la allontano perché ovviamente essendo la mia camera così luminosa la fotocamera tira fuori il bianco da dietro e tutto il resto sembra molto molto scuro che ve lo dico a fare quella con le cipolle anche fantastica conoscete il mio amore per le cipolle quindi giochiamo in casa anche con il formaggio fare una classifica non è poi così semplice scontato beh forse metterei al primo posto quella con le cipolle perché ha un sapore comunque un po' più fresco e leggero che mi porta a mangiarmene 75 kg senza rendermene conto quella al formaggio anche è tra le mie preferite in assoluto però risulta già leggermente più pesante a lungo andare quindi la metto al secondo posto e al terzo metto la semplice poi anche qui la semplice con dentro il pesto con dentro un affettato farcita come se fosse un panino sono sicura che rende tantissimo infatti ci siamo pentiti perché non abbiamo pensato a comprarne tanta per poi congelarla prossima volta sicuramente faremo il giro di tutte le focaccerie che ci consiglia lasciate voi qui sotto nei commenti e poi quella che avanzerà ce la riportiamo a casa e la surgeliamo così da averla sempre a portata di mano siamo stati dei tonti ci abbiamo pensato successivamente dopo che la ragazza ci ha detto ma questa la potete tranquillamente surgelare è fatta al momento quindi lì per lì l'abbiamo ascoltata ma da un orecchio c'è entrato dall'altro c'è uscito appena ovviamente siamo saliti in macchina che quindi eravamo ripartiti ci siamo guardati e ci siamo detti ma perché ne abbiamo presa così poca bellissima domanda peccato veramente finora quella che mi è sembrata più sapida è questa con le cipolle però non so se perché già ne ho mangiate due quindi la sapidità complessiva in bocca è già ad un livello alto quindi al palato risulta effettivamente più sapida o se realmente è così sicuramente è la più saporita molto molto buona preparatevi perché sicuramente voglio replicare la ricetta della focaccia alle cipolle genovese del pesto fatto con il mortaio seguendo tutti i passaggi del campionato mondiale voglio provare a rifare la bagna cauda l'abbiamo assaggiata me ne sono innamorata non mi aspettavo totalmente dal nome quello che siamo andati a mangiare sono rimasta innamorata insomma abbiamo assaggiato tante cose che c'era capitato di sentir nominare ma che nell'effettivo non avevamo mai provato e per ogni cosa sono rimasta entusiasta credo che con questo sole all'esterno che rende la stanza calda come vedete sto in camicia e basta con il maioncino sulle spalle perché poi quando vado di là effettivamente fa più freddo mi sento al mare mi sento che ho voglia di fare aperitivi su aperitivi infatti ieri sono stata felicissima è stato un tocca sana per l'anima perché siamo andati a Recco passando anche per Sestro Ligure e ci siamo innamorati che belle zone poi il mare c'era un sole che ti scaldava l'anima insomma sapete io quando vedo il mare rinasco è proprio il mio posto felice non riesco a rimanere indifferente quindi mi ha dato talmente tanta gioia mi ha riportato all'estate che per me nonostante il caldo torrido è un momento di totale gioia dove puoi uscire vestirti veramente con niente andarti a fare un aperitivo una passeggiata insomma puoi fare quello che vuoi il freddo mi limita molto per esempio non riesco a finire tutto mi dispiace oggi aver mangiato realmente poco più che altro ci tenevo a fare questo assaggio in diretta con voi perché non avendole provate nel video quando le abbiamo comprate ovviamente volevo dirvi cosa ne pensavo perciò ricapitolando focaccia alle cipolle al formaggio è semplice veramente comunque tutte buonissime speriamo di tornare presto anzi abbiamo in programma di tornare quando farà caldo così da comprare il pesto magari fatto sul momento con il basilico che è di stagione e fare il tour di tutti i ristoranti assaggiando tutti i pesti possibili immaginabili provando quante più focaccerie possibili altra cosa di cui mi sono innamorata a proposito i panzotti con crema di noci me li sono proprio gustati veramente una cosa eccezionale insomma per chi dice che si mangia bene al sud ragazzi continuo a ripetere che si mangia bene in tutta Italia ogni regione ha dei piatti fantastici con la coppia di amici di Marta e Fabio con i quali ci siamo trovati benissimo ci hanno raccontato tantissimo della Sardegna che è un'isola che ancora dobbiamo visitare insieme alla Sicilia e ci hanno nominato tanti di quei piatti che generalmente non si sentono si pensa alle seadas al maialino sardo e a tutti quei piatti standard quando ce ne sono tantissimi altri che non mi sarei mai aspettata di sentire quindi preparatevi perché ovviamente andremo alla scoperta di tutte le regioni che ci mancano da provare sicuramente inizierò a creare dei format di video impostati in tutt'altro modo per raccontarvi i nostri viaggi gastronomici da tutto un altro punto di vista per questo video è tutto io spero vi sia piaciuto se è così è stato mi raccomando lasciate like ed iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video che usciranno tra cui i vlog di questa vacanza come sempre vi mando un bacione noi ci vediamo domani con un nuovo video ciao 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 Grazie a tutti.